Comunque Gallinari sbaglia due liberi. Penetra Oscar e dà un buon pallone a Gluczkov. Non va, rimbalzo di Oscar, tiro. E' corto il tiro, rimbalzo di Sugar che sbaglia, un canestro facile. Contropiede rapido, un punto di vantaggio per Bologna, mancano 13 e 19 al termine del primo tempo, Oscar al tiro, realizzato. Al tiro Oscar da tre. Rimbalzo di Oscar ancora, apre su Dell'Agnello, fa saltare Sugar, va a canestro. Comunque al tiro ci va lo stesso Polesello. Oscar trova la bomba. Quattro errori consecutivi al tiro. Anzi cinque, mettendoci dentro anche una bomba. Replica. Su di lui Richardson. Su Gentile Brunamonti. Oscar fa saltare Bonamico e poi non perdona. Bonamico su Oscar. Lo sfida e lo sfida. Lo sfida e lo sfida. Va a zona anche la Virtus 3-2. Ecco che Oscar trova subito la sua mattonella contro la zona. Punti per lui. E nove da difendere negli ultimi 50 secondi per Bologna. Oscar. Si guarda bene i piedi e poi trafigge la Virtus. E sono di nuovo dieci i punti di vantaggio per la formazione bolognese. In questo caso sul proprio terreno. Risponde Oscar. Oscar incita in sua stagione per la Snyder. Ora in attacco con Oscar che ha segnato su assist di Gluchkov. Da sotto rivediamo l'assist molto bello. E la conclusione. Marcato da Richardson. Sulla lunetta Gluchkov. Un assist servito molto bene per Oscar. Che segna e subisce fallo. 23 punti per Oscar. Che vedete ora incita il pubblico casertano. Che ha segnato intenzionale a Sylvester. Era stato reclamato più volte del Pester. Dunque dopo il tiro libero di Oscar. Il gioco riprenderà con la rimessa laterale per la Snyder. Sette primi e venti secondi giocati. Oscar si alza in sospensione. Segna. 63 a difesa. Esposito. Su di lui c'è Richardson. Servo un bel pallone schiacciato a terra per Oscar. Si alza in sospensione. Brucia la retina. Bologna. 78. Caserta. Ma devono giocarsi ancora due primi e 40. Oscar. È il canestro del sorpasso. Sono azioni che possono tagliare le gambe all'avversario in questi frangenti. Vediamo la risposta di Oscar. Diremmo una gara di nervi. Chi avrà i nervi più saldi. Vincerà la Coppa Italia. 90 Knorr. 88. Ora 91. 90. Il tiro 189. Un primo e 54 nel termine del primo tempo supplementare. 94 Knorr. In tenuta nera in difesa. 90. Ora 92. Caserta. Ora però vedete che Cagnani.